Andiamo in safe, guarda se stiamo in live, guarda se stiamo in live, si siamo in live, siamo in live, siamo in live con Jest perché ci fa sempre compagnia questa pierla, un fortissimo giocatore Quindi contattateli in molti e dateli 5.000 euro solo in cambio di una sua giocata Esatto Se sapete chi è ninja, non saprete chi è lui perché lui è il doppio più forte di ninja ragazzi Ninja c'è gente C'è gente no Io ci tento di spararle così qualche colpo col cieco Anche se dai quella merda di... mi so che non conviene andare, Just Vuoi andare con la droga, eh? Vuoi andare con la droga Dici? Secondo me è... Ah, c'è sopra... Facciamo così, va? Qua sono, non sono più lì, Just Non sono più lì Eh, non sono lì Non sono più lì ti ho detto C'è madonna Oh no Non ho sfiorato Atterra un altro Atterra un altro Atterra un altro Col cieco, lo tiro a tutti Col cieco, madonna Scusa Bella, bella Bella, bella Bli ho scarabba Bli ho scarabba Bli ho scarabba Oh cazzo Cosa blu? Lo lasci tu? Lo lasci tu? Lo lasci il coso blu lì? Lasci il coso blu lì? Stai matto? Stai matto Stai matto tu proprio Eh, no Stai matto Stai matto Stai matto Stai matto Stai veramente matto Ma che cosa sta? Ma da onde vuoi ti colpio? Da onde vuoi ti colpio? Da onde vuoi ti colpio? Eh, l'ho preso io il tuo Ti va bene quello? Va bene Mi tengo due cecchini Mi tengo due cecchini Buonasera Signor papà Buonasera Signor papà Buonasera Stiamo già iniziando bene con un ottimo kill Con il cecchino Quello che non so usare Comunque sia Basta che sia una kill E l'ho fatta anche mentre stava correndo quel tipo Quindi ho avuto un voto di culo Un voto di culo Non ca' di sprecata questo Non è sprecata questo Non c'è neanche gente qui no Non c'è neanche gente qui no Non c'è neanche gente qui no E' un pionno no la montagnetta montagnetta oh ah ah no un brutto troia aspetta fatti sparare ancora se nabo me lo fai uccidere con la trappola così mi becco il golf ma invece non sono di questi no hai qua dietro ecco sopra qua sotto è sceso qua dai hai un bel colpato giusto quanto è niente è chiuso qua sotto giusto qua sotto di te si è chiuso qua aprililo qua è qua è dietro quanti team ci sono qua sai ci sono come sei team o sei persone quindi tre team sarebbero quindi ok madonna che casino che c'era che casino che c'era ma un brutto proprio di casino però io andavo io andavo ciao giusto bella ragazzi purtroppo il nostro giusto se ne va ciao giusto che possiamo invitare ragazzi che possiamo invitare aspettate un po' perché abbiamo degli amici di epic boh raga non lo so cosa fare sono indeciso oh problematica di amici ah no ho sbagliato io c'è coi c'è me però me non so cosa sto facendo ma me perché non parla sono qua ah ci si ok stiamo in live me sì però sì però è troppo è troppo da pc ma non c'è nessuno sai in questo momento nessuno è attivo da pc sì sicuro sicuro ma è amp chi è amp io no almeno attivo in questo momento è già in live ciccio sì già sta facendo il torneo cazzo aspetta adesso facciamo questa partita poi vediamo chi possiamo no papa non me ne ero accorto che c'erano con me in partita poi adesso proviamo a fare una cosa cerchiamo di invitare qualcuno da pc e andiamo nei server privati di ciccio a provare a pusharlo così magari poi nella sua live se lo pushiamo andiamo nella sua live e vediamo che l'abbiamo ammattato noi e ci porta lo sponsor cosa cdm si va vai vai passi perché devo cercare fortnite da pc oh mei ha chiesto papa se vuoi se puoi entrare in live dopo che ti guardi un attimo ciccio no bro 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 sono nella merda sto nella merda no bro bro sto nella merda sto morto e vedo mai quita 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 dobbiamo vedere un po vediamo un po come fare si si vediamo un po come fare allora poi guarda come si come si vede adesso la live perché ho provato a mettere la qualità basso quindi a 800 ho provato a metterla aspetta oh mei quindi io devo invitare solo qualcuno da pc e basta si ok è invitato nel gruppo un mio amico da pc no da pc devi passare per il momento la eh appunto adesso noi aspettiamo che entra e poi andiamo nella chat di gioco non va bene mei si è messo già in shot di gioco oh mei mi senti oh brod si ti sento si ti sento sto aspetta non è colpa mia purtroppo c'ho le cussi un po' lontane io sto invitando questo mio amico che lui è su pc lo sto invitando solo che non non entra ancora dai mentre ci facciamo un'altra un'altra bella partita va dai aspetta che devo abbassare un minuto che mi dà fastidio cosa dobbiamo fare quindi noi dai col c***o entri con noi raga ciao a tutti stiamo vogliamo provare ad entrare su con il gruppo stiamo provando a invitare gente da pc così proviamo ad andare nei server privati di ciccio ma qual è la password dei server io sto invitando tutti quelli che ho online cioè due persone in online se vuoi mi provo a unire nel gruppo di questo mio amico e poi ti invito a te vai aspetta aspetta raga stiamo provando un attimo ecco e magari andiamo nel server privati di ciccio e magari lo pusciamo malamente proprio bruttissimo raga oh stanno in partita questi due questi miei amici tutti ma c'è un'altra che la che l'altro mio amico che ho invitato non è che fallo no dai usciamo da qua usciamo metti l'invito raga abbiamo dei problemi tecnici perché vorremmo provare ad entrare nel server di ciccio solo che chissà se ci fa entrare poi perché c'è talmente tanta gente raga che sicuramente sarà due ore in attesa quindi chissà se ci farà entrare eh bravo bravo eh io forse ne ho trovato un altro anch'io si chiama twitch il jack quindi sto provando di invitarlo di gruppo ok va ok ce l'ho fatto dai raga salite nel mentre che forse entriamo da ciccio raga dai ce la tentiamo vediamo un po' se riusciamo a trovare se qualcuno dei nostri entra che abbia pc però raga se voi oh ragazzi se voi avete pc e volete giocare con noi mandatemi un messaggio qua in chat subito e mi date il vostro nickname ed entriamo subito a giocare così ci proviamo a fare un trio o un bello squad completa e andiamo a provare a giocare sui server di ciccio dai raga qualcuno di voi a pc venite tutti qualcuno anche uno raga non serve per forza aspetta mi stanno invitando devo accettare delle richieste dei miei amici però ci sta poca gente la ho anche poll io li invito nel gruppo però nessuno entra che due polli nessuno entra qua aspettate scusate magari vi sto annoiando a stare qua a vedere come è me però vogliamo trovarci ad entrare sapete solo una persona solo una persona serve raga ma mi sa che adesso non c'è nessuno raga troviamo qualche adesso tre cosa va invitami se dai da computer invitami invitami che balle invitami comunque dai oltre è entrato raga ma nessuno qua è da pc porco giuda nessuno chiede da pc raga dai perché vabbè dai raga giochiamo con questi ragazzi vai invitami però perché non voglio star con questi non li conosco ho paura a me di non lasciarmi da solo oltre mi sta minacciando mi sta minacciando oltre perché sto arrivando da te ma con me stiamo facendo un casino per cercare di entrare nel server di ciccio quindi tre secondi e andiamo si giochini ma spiegali schivano raccetti di gruppo aspetta aspetta vengo godly anche aspetta la tua raccetti di 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 raga mi sentite ci sei giochini 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 king di ciccio di ciccio di ciccio che è dobbiamo mettere il match in personalizzato però raga dobbiamo qual è la password mei qual è la password eh raga qual è la password però oh mei qual è la password però come faccio adesso di andare su youtube aspetta ciccio scusate ragazzi se non rispondo adesso sto guardando una cosa aperto a tutti sere privati aperti a tutti aspettate raga non sento quale aspettate la via da zero ok allora ragazzi vabbè intanto ho startato pochino aspettate raga devi stare in giro no mi sta zitto l'hai fatto veramente no vabbè attento aspettate raga chiude la finisci di vol sol basta buonasera ragazzi allora mi dico già da subito che c'è un delay di un minuto e 30 non c'è non c'è non c'è non c'è sempre di delay che ho fatto adesso ma adesso il delay è stato quasi scusate ragazzi ho scelto più che di mezzato più che di mezzato ho messo la chat sullo sponsor semplicemente per il fatto che se devo parlare se dovevo scrivere qualcosa di importante se succede qualcosa non mi abbracate le palle in chat io non si nervosisco e e comunque lo sapete quando faccio i server in privati ho scelto la chat solamente anche se lo faccio sempre benvenuto dagli sponsor Gambler Ruschio benvenuto dagli sponsor grazie mille e poi comunque vedremo vedremo sempre più avanti io schierò a ammettere anche la chat ma non voglio definire il mio moderatore che devo ammettere degli altri perché sì quando abbiamo successo in prossima essere davvero invitati io spero ovviamente che potrebbero di più da per in realtà abbiamo di direi tutti possono entrare le serie privati giocheremo modalità blitz giocheremo modalità blitz perché è un po' più veloce a differenza delle altre volte ho deciso che oggi spenderò le partite cioè se moriamo non usciremo ma sbenderemo una partita per vedere chi vince chi vince è un problema che è un problema secondo me è un problema aspetta che non trovo il server sì blitz dovrebbe essere più feroce vediamo puoi magari nel corso della life capo idea e lo spec tu che vuoi c'è dipende invita jacfing mi senti vediamo però vediamo come va cerchiamo di non morire per quello che io inizio se siete scarichi ditelo perché magari qualcun altro potete scarichi però se partiamo la gamba quindi posso portare il toccario a me fa male il pollice quindi lo riasconto ho l'indice rotto lo riasconto ragazzi assoluto progaming bello aspetta mi risposta dite un attimo me sapete ci prendiamo mi sarebbe 10 minuti quindi entri 8 per me 40 per me sincera non c'è non c'è non c'è non ho ancora non ho ancora detto giacchi da pc aspettate come una turca da sotto da sotto vedi che vuoi zitto un attimo ma mi sa raga che la passo è il giro cacca Raga mi sa che è quello di sempre la passo Reggiano crack Eh si ma se Gianni ci lo fanno Gianni ci devi mettere la passo Ciao King Ciao King mi senti? Se mi senti? Ja King se mi senti Balla se mi senti Balla se mi senti Ja King Ok Ja King Adesso tu devi fare 6 per scegliere la categoria Aspetta zitto un attimo Allora tu devi andare per scegliere la categoria Quindi poi dopo di andare sotto c'è scritto match making personalizzato E metti la password G1K si chiama se non sbaglio Vai che così ci facciamo Proviamo ad andare con il ciccio Eh prima volevo vedere se mettere Volevo vedere se mette la password Primo Hai capito Ja King? Se hai capito balla Se hai capito balla Aspetta Magari sta facendo Magari sta facendo Devi andare su per cambiare tipo Eh non mi interessa Ok Ha capito ha capito Ecco Ja King devi andare su Per cambiare le categorie Tipo singolo copie squadre E sotto Sotto dove c'è scritto per cambiare C'è scritto match making personalizzato Tu schiampai su match making personalizzato E scrivi una password Lì ci sarà scritto di scrivere una cosa E scrivi G1K G1 spazio K Quella lì la password dei server Se non ti voglio Sì ma ormai Mi interessa Magari giochiamo con altri Magari giochiamo con i G1 G1K Andiamo vediamo Stora Dai vai Ja King vai Metti 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 la password Il disco Ja King hai capito Se hai capito Quello che devi fare Pezzo per pezzo Falla Se lo hai capito Tutto proprio Però devi anche farlo Per favore Ok ha capito L'hai capito Quindi Ja King Fallo Per favore Cosa? Cos'è che ha detto? Metti la password Ora come provo io? Guarda Qualcuno Provo io G1 No Non per forza Si deve essere gente da pc Ti ricordo Per fare Il cosplay facciamo Raga Raga a me non Ja King Però cazzo Metti la password Porca puttana Ce la fai a mettere una password? No Ja King Porca Vabbè Giochiamo così Ho capito Un altro giorno Andiamo nei server privati Perché tanto Ja King Non riesce a farlo Madonna Ja King Ce la fai a mettere Aspettate raga Forse Forse Abbiamo Forse Vintage 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 Ci senti? Ci senti? Vintage 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 Non ci sente Mi sa Vintage Vintage Ci senti? Se ci senti Balla Ok Ci sente Sei italiano Vintage È tuo amico Allora Noi vogliamo Ti vai Come? Come quello che vuole fare? Non è Non è Vintage Vintage Non entra nessuno, vaffanculo, diciamo così, vaffanculo, oddio, sono andato tanto qua, non capisco su un cazzo nessuno, dai, gioca così, gioca così, mi sto nervosendo questa gente, madonna, tutti parlano e poi non capisci niente, nessuno. Vai, metti, ci andiamo un altro giorno, con più calma, dei server di ciccio, un altro giorno, con più calma, prendiamo, chiamiamo amici. Mi scaldano, no, dai, voglio giocare, mi sono rotto il cazzo di stare così fermo, poi in live non c'è nessuno se stiamo fermo. Dai, 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 metti pronto qua. Vabbè, non importa delle persone, ormai abbiamo, non importa, ci andiamo un altro giorno con più calma. Dai, che in chat vogliono che giochiamo, muoviti. Cosa? Dai, cazzo. Ce la fai, me, capito? Cosa, c'è uno? Dai, va, muoviti però. Non ce ne ho, io ho altri, guardi. No, io ne ho solo due online. Cosa devo cercare su Twitch? Non partite. Non partite. Michael online, Michael online, raga. No, io gioco, no, May, io gioco con Michael anche, perché io non mi voglio entrare nei server privati di ciccio, mi sono rotto. Mettiamo cosa del, cosa del gruppo, cussacacchie cose, raga. E andiamo un altro giorno con più calma. May. Eh, sì, ho visto, pompa, ho visto, ho visto per quello. May. May, porco disco, metti, porca la puttana. May, metti la chat di gruppo. Metti la chat di gruppo. Mettila. Metti la chat di gruppo, tu nel mentre, cazzo, May. Puttana. Io ho due pagine aperte. Allora. Non mi interessa, mi hai passaggiato di gruppo, cacchio. Come on, osco. Andiamo un altro giorno, ne serve il ruolo di ciccio. Ragazzi, proviamo un altro giorno ad entrare da ciccio, non mi interessa. Non mi interessa di ciccio oggi, giochiamo, siamo in live anche noi. Non voglio stare nella mia live oggi. Un altro giorno andiamo da ciccio, un altro giorno, aspetta che entra Michael. Entrando Michael anche. Oggi c'è troppa gente, raga, è come sempre. Poi non farà mai a giocare con ciccio, raga. C'è gente molto brava che ci ammazza subito. Oggi non andiamo da ciccio, andiamo un altro giorno da ciccio. Un altro giorno con più calma chiamiamo gente con il computer e poi andiamo da ciccio. Oggi no, però. Quindi niente, oggi ciccio. Oggi ciccio non giochiamo. Vai, dimmi. Ha detto Piero di accendere il cello. Io ce l'ho già acceso. Pure Dani ha invito, visto che è online. Pgf in pratica è questo, abbiamo creato un team, io, Michael, siamo un team. Poi Dani, aspetta già, stiamo facendo i provvini di tutti così poi valutiamo e mettiamo dentro. Ci sono tipo già 11 o 12 persone. Quindi se vuoi tu puoi entrare anche tu. Possiamo entrare. No, no. Poi ti mando il coso, dai. Aspetta, aspetta, mangiare. A Dani, a Gianni, sì, Dani. Brutto che hai tu, Dani, quanto ci muovi? Beh, minchia raga, volevamo entrare da ciccio, solo che ci serve una persona da computer, ma nessuno che entra, tutti quelli con computer, sono rincoglioniti e nessuno capiva. Non reggi, forse. No, perché è lentissimo quel cacchio di computer. Scoppia tra poco quel computer se entra con Fortnite. Appena entri con Fortnite non ti fa neanche mettere col busso che sta già alla gamba. Non sono in live, non entrano, ho provato con il fratello di Axion, però non entra, ho provato con Real, ma un culo a Real. Ma non è più mai? No, boh. Non è entrato adesso, non sta giocando. No, no, sta giocando con da solo, mi sa. No, non è più online, non è più online. Appunto, ci ci dobbiamo facciare neanche una vittoria, però non è fatta. Raga, voglio dire una cosa, però. Se noi ci impegniamo e formiamo un bel team, tipo fai finta, adesso facciamo il team, io, Just, Michael e Dani, e questo è un team. Poi facciamo finta. E deve migliorare un botto questo team, poi facciamo finta, entra anche Mei e fanno un altro team, Mei, Axion, Real e un altro. E devono pompare anche l'Oreo ad essere forti. E poi dopo essere un tot di forza, dopo essere un tot di forza, raga, hai detto papà che contatta Ciccio per sfidarci. Quindi dobbiamo... Eh, non è tu frega, te ne danni. Eh, poi un totale tramite email, tramite l'agenzia. Non hai modi. Tramite Facebook, tramite YouTube. Ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io con la skin. Ah, ma bastardo. Dai, raga, mi fate pronti. No, non so se ce l'ho però il culo, perché abbassavano il team di reti. Eh, ma il Rekinz, eh. Raga, guardate che i G1 sono il team più forte d'Italia. Quello di Ciccio non è il più forte. No, Ciccio no. Perché tipo Soul, Checco e... E coso, Soul, Checco e l'altro. Sono forti, però non a livelli tipo di un Rekinz. Sì, però non a livelli di Rekinz. Perché comunque sia... No. E l'Ariax è il team fortissimo anche. Ninja. Eh beh, grazie al cazzo. Allora, raga, vi dico una cosa. Ninja è veramente... Il mondiale. Non è più italiano. Non è più un giocatore italiano, comunque sia. E raga, comunque sia, però... Ma comunque sia, Ninja è il miglior giocatore al mondo, perché Truth usa i trucchi, e di conseguenza è normale essere il migliore con i trucchi. Ma Ninja invece usa... Non fa. Ma perché... Ma perché Wizard... Ma perché Wizard è Wizard. Wizard si allena. Ciccio comunque sia. Ok è forte, però... Non è... Non è... Non è imbattibile. Non è imbattibile Ciccio. La gente è fuori da me. Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Sì, è forte, raga, però... Aspetta, c'è gente da me. Adesso, 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 adesso. No, 10 euro. Ok, un po' che diceva. Comunque sia, non lo cambio lo stesso. Raga, in casa c'è qualcuno di voi. No. No. Stai aiutando. Arrivo. Sono un po' a imparare. Terra me. Eh, io ne ho sterrati due, raga. Sto morendo come... Non sto prendermi io il po'. Sì, sì, prenditelo, però... Però lasciami medicare. Eh, aspetta, non posso. Ho poca vita io, raga. Ok, 1. Arrivala, arrivala. Oh, bella, Mike. Stammi il pompolo. Stammi il pompolo. Noi, raga, io non posso proteggervi adesso. Ho pochissimo vita. Mi sto curando io. Tre secondi e arrivo. Ok. Dani, aspetta. Sono le band, sono le band. Mi aiutami. Ok. Me ne serve una. Raga, io ho fatto fuori due persone col pompa e io avevo 14 di vita, però. Mi serve un pompa. Dani, qua è pieno. No, non c'è nessuno. Oh, raga, lo sapete come ho fatto fuori un tipo io col pompa? In pratica lo stavo sparando con il M4 e poi però questo tipo vedevo che mi stava facendo un botto di male col pompa e quindi lo esploitavo ogni colpo che le facevo e mi sono abbassato così almeno lui non poteva prendermi in quel momento e quindi l'ho mazzato, l'ho Vieni qua, Michael, il mio 12. Ok. Guardate che c'è la pistoletta silenziappa. Ok, vieni, Michael, dove sei? Qua dietro. Ok. Prima con noi, con Just, mi sono fatto un bel poio di kill. Lo pista con il loro fuccio da caccia a magazzino. Ah, hai visto, Michael? Sì, sì, l'ho visto. Che culo. Ah, ah. Bella e mellitta. Bella e mellitta. Bella e mellitta. Che sei il buono. Bella e mellitta. C'ho questa compagna, si chiama mellitta, no? E scasso dico, bella e mellitta, bella e gustosa, prendi la calci, sarai più gioioso. Oh, top, dica. Michael, qua ci sono le bombe che piacciono a te. Eh, vieni qua che c'ho altri piccoli proiettili. No, ho sbagliato. Ok. Mi stavo incasinando a scoprire. Qualc'è un colpito di pompa? Magari. Tu, Michael? Ah, io sono un caricatore. Eh, Dani, qualcosina posso darti a te, ma poco. Ho dato qualcosina anche Michael. Vieni qua, Dani. Mi passi le bombe, Luca. Ah, io sono un caricatore. Ah, io sono un caricatore, mi sono un caricatore. Aspettate. Chiamatemi il bombayor. Il pushador. Raga, quanti siamo in live? Tu, cazzo. Se no, contro il G1, ho creato il mio rispondo. Oh, raga, ha detto papà che se diventiamo bravi o contro C, prima contro C, c'è poi contro il G1. Che creato mi sta detto che le risponde. No, vabbè, Giulio. Eh, ma sempre una bella esperienza, però, ecco, anche se ci è botto. Raga, c'è gente davanti a noi. Fare tipo anche cose, la scala e il muro, la scala e il muro. Ah, ok. Sì, ti sento, ti sento. E anche io devo imparare, Michael. Sì, sì, ti sento, ti sento. Hai visto? Mi sto imparando, per esempio. Eh, sì. Eh, ma cosa? Sono quelli che si tira fuori dal buco del culo, guarda. I soldi per Natale, capo d'anno. Eh, sì. Eh, non si passano, tranquillamente. Eh, mi chiamò un PC da Game. Come sto facendo io, io per la C, mi compito. No, tu, sei tu. Ma per la C, di credito, ma quanto cazzo ti fanno? Beh, tu, sei, sono a PC, no? Cioè, abbiamo tipo, come si può dire, delle moto, anche c'è noi. Io vado in mostra, appassione, non è forte, ma c'è la sua passione. Sono le moto. Io forse, mi per uso un'alternativa, perché? Non posso andare in moto, è in questione. Ma raga, raga, ho un problema a Burgi. Bastardi, mi hanno beccato da dietro a me, raga. Ma è costante in due, no, beh. Io non capivo dove mi stavano prendendo. L'ho visto adesso, l'ho visto adesso. Invece era, invece era un altro ancora. Quanto G1 non possiamo fare così, eh. No, quanto G1 dovremmo costruire. Oh, impegniamoci, dai, per ora. Sì, dai. Ecco, sì. Vabbè, anche G1, se ci impegniamo, forse possiamo alterrarne due o tre. O magari possiamo anche farceli tutti, eh. Ma neanche uno. Che ne sapete? Magari ci viene una botta di culo in quel momento e li prendiamo tutti in testa, raga. C'è l'anniggiaggine, non ci sa. Oh, raga, magari in quel momento si dividono, raga. Pum, pum, facciamo noi quattro contro un tipo, quindi tutti morti, poi. E diventiamo i ragazzini più forti d'Italia. Ebbè, però, già avere, già avere, oh, ragazzi, vi ricordo che già essere sponsorizzati, non sponsorizzati, visti i live con loro che stanno sfidando a loro, il PGF diventa un team più, con più valore. Più ampio. Eh, ma però, quando dieci ore da buttare, ok. L'ho cambiato due volte, io non. Io. Io non lo so. E tu, io sì. A me, io non lo so, però non lo dice. Anzi, io posso farlo, mi sa. Perché non l'ho cambiato mai, è la prima, è la prima volta ancora io. Quindi, poi vediamo un po'. No, in caso, magari, quando Dani, Michael e Giost hanno qualche soldo da spendere, li spendiamo per il no, lo sai. Oh, Dani, tu se li spendi in droga. Eh, no. Per la droga, lo scherzo. Oh, raga, pompa blu del, quello tattico, raga. Quindi, ho già messo molto. Molto, molto. Che cura. Che cura. Sì, molto, puoi dirlo forte. Raga, un altro pompa tattico, chi lo vuole? Eh, vaffanculo, Dani. Raga, qua c'è un pompa tattico del, no, pompa tattico bianco. Non ho messo più. Io mi do un pompa tattico. Non me ne faccio niente, io quello multiplo e bianco, blu. Il verde, il blu, il marrone. Il verde, il blu, il marrone. Il gente con noi, eh, 60, 60. Mi interessa, raga, adesso. Pensate a prendervi molti materiali per pushare. Dove? Dove? Dove è una bestemmia. Dove è una bestemmia? Dove è una bestemmia? Io sto andando, io sto andando. Io sto andando, io sto andando. Ok, nelle casette. Eh, sono nelle casette, nelle casette, nella casetta, è il pompa. Eccoli, raga. Quello multiplo. In bianco, è purtroppo. Ecco, raga. Ora, raga. Pochi. Raga, pensiamo a pushare con i materiali adesso. Impariamo. Se no, con il gioco facciamo una bruttissima. No, no, no. Scusi di dietro. Eh. Colpito, eh. Non l'avevo visto. Raga, qua domani. Ok, uno. Ah, no, è sempre qua sto figlio di troia. Qua c'è un pom. Raga, io non ho cure. È da te? È da te? È da te? Trago. Adhoca. Adhoca. Colpi. Ehm, pompa. Non ho cure io, ma io. Tu non ho mai questo. Tieni, ma io. Dai, dai, a caldo. Vieni qua. Dammi la mano. Eh, lo trattiamo io, uno blu. Vieni qua. Aspettiamo, vieni qua da me. Dove ce n'è uno? Dove ce l'hai la caraffa? 100 jetpack, ok, al jetpack. Eh, sono io. Ok. Hai colpi del comparto? Hai colpi del comparto? Ok, hai colpito. Chilo, le fette qua. Ho c'è Dani? Qua, là. Qua, là. Qua, là. Ecco lì, guarda. quindi singolo no cazzo fuori 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 guarda quanti siamo mentre ciao a tutti comunque sia noi ad un cavolo no sono massimo e dopo ci ho visto si si adesso mi sono curato io magari per un pompa blu per nonno dove c'era dove c'era qua dove c'era l'abbandono al piccicchino esce ritorno chi è che spara la gente dice arrivo raga giustate e voglio aiutarli raga 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 di me raga dove stanno ma ancora vivo è quello che ho visto nel senso non è tipo come si dice gli altri suoi amici mancano quella cosa no è impossibile che la da solo se no moriva colpi si qualcosina ce l'ho mai dove senti anche io qualcosina vieni qua qui metto dai 10 al solito tieni mai c'è una gianta non siamo non spingiamo per così poco 4 materiali è io qualcosina ce l'ho io ho il mio 700 dai ho spresi dagli altri ho spresi degli altri no dai vieni fatto di qualcosa puttana si mi sta anche a me e vieni qua dai cazzo vieni no no non ci becciando sì 70 70 anni di attrita e fra la 6 6 6 mai che non è blitz muoviti che ti becca la safe a me non mi becca neanche neanche danni forse forse a me per un palo l'upload dietro dietro raga cazzo è vero che tanto loro li troviamo indietro comunque mai avanti vai avanti mecca bello non ti abbiamo lasciato sai abbiamo semplicemente 8 a 1 ragazzi forse ancora questa carne è nessuno raga aiuto aiuto cazzo mi curate per favore qualcuno mi cura non va alla scuola cittadino cittadino dai vai vai aspetta che dopo cavità io prendi l'ultima e andoi a daniele raga colpi erano colpi meravigliate che non ne ho raga non ho colpi medi da jump c'aveva questo raga non ho colpi medi vi dico già finiti mi aspettate un attimo raga che devo curarmi sì però anch'io devo curarmi non ho cose per curarmi ma che mi guarda per curati un tempo e basta erano un cazzo su quello sì però è un problema raga un problema di medio mi ha 300 io voi io venti abbia da un po se riesco a qualcosa mi do sì sì ce la facciamo è però è pericoloso è brutto è brutto sto posto me non piace raga e non non so come curarmi perché non ho la roba per curarmi che o mai di che ti amo non servirebbe niente io non ne avete scelto qualcosa perché non ne ho dodici io di scelto ok quindi due magari sono il procuratore di figlio michael colpi medi per favore che non ne ho bello continuiamoci poi io per entro non conviene mettermi fuori io ora ti puoi ti però non conviene facci subito già i fortini questo piccolo fortino raga c'è davanti a noi gente non cammina davanti a noi alla sopra e li puciamo magari raga sto facendo la stessa cosa di quel tipo io terra 1 raga ok una terra lo sappiamo mi piace mi piace di questo tipo michael che mi fai mai mi ha fatto molto male ma lato dove lo vedete sto coglione di merda farsi cazzo i suoi unità dai raga porco disco ma dove cazzo e michael adesso ok nel tuo morti tu mi fai mai mai dai per favore ma niente pensavo mi curasse michael che mi curasse ok raga aiutatene adesso ok adesso butto via il coso perché mi fa schifo quella cosa che vuole perché come stiamo mirando mi ha volato da solo raga io sto messo più o meno discretamente io ce l'ho per le bende per non c'era portare le bende e c'è le bende e raga shieldini e da butto che prendo ci saranno ok andiamo ce l'inseffro che qua è stato di un gioco si si raga mangiare l'ulta dell'altro piangere il merito si è vero che bello andiamo ragazzo ce la facciamo anche senza ok 100 di vita raga bella partita raga questo sì sì bella bella e siamo anche in live raga raga 800 dove c'è anche 195 circa c'è gente c'è gente dall'altra parte del lago raga io sono in chiamata raga ho pochi materiali ne ho un po io da più michael scindini per favore aspetta vieni dentro ma varsi un pochino la c'era c'è la tv ha centro di sala niente allora chiudetemi subito ehm c'ho materiali daguerzo ho potuto spettare in qualcosa e mai per questo giocatore cosa volete raga ne ho materiali ehm c'è un po di questo e un pochino di questo raga stancione dalla montagna gli altri quelli a nord ove stanno scendendo la montagna mangia mangia sto solo dicendo che noi ad anni raga raga acqua 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 che stanno scendendo scendendo prendiamo questi qua visto che ci siamo ecco stanno pushando forse siamo più passato appunto guardiamo guardiamoli e basta guardiamo a luca non porti notare luca si fa notare ma tanto ormai un cacchio non sono ci fanno il culo non c'è granate raga no nulla no raga che cazzo bravo come cazzo un fatto te l'ho detto luca non devo farti notare così tanto non devo farti notare che cazzo facevamo tanto ormai ma se presto ma ieri erano le dieci e mezzo e mi ha detto così presto oggi e quindi è presto non sono neanche le dieci erano le dieci e quaranta e non mi ha detto niente oggi che sono neanche le dieci mi dice qualcosa ma non è vero che quando che quando che stava giocando tutta la nicola prima mamma vorrei stare giù allora michael ormai eravamo lì in mezzo ormai cosa facevamo se non ci facevamo notare in quel momento che stavano aia sono da lì sopra ma ecco là non ci facevamo notare in quel momento alla fine ci avrebbero notato sarebbe stato peggio perché ci avrebbero preso da dietro e gli altri non stanno neanche in safe però mi sa che lo sanno già e sono bravi ok buono è chiuso bella bravo 11 kill puoi fare il tuo record lo si è di michael e vabbè non potevo fare è rimesso un po' male è buona però è stato bruttissimo è tra virgolette ho sbagliato più siete morti per quello è poi il bello che dice agli altri ne ha copritemi per curarsi e poi adesso vabbè non importa ora mille adesso proviamoci proviamo a pensare di più invece di agire pensare di più i pro play i pro play costruite ad ogni avversario che vedete così almeno avete meno probabilità che lo capite per quello per quello vi ho detto proviamo raga costruiamo subito adesso prendetevi un botto di materiali perché volevo provare voglio provare a vedere cosa si provava a costruire mentre trovavi anche un solo giocatore due soli giocatori un solo team parco ok dai parco 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 è una bella tappa dai però ci proviamo a fare qualcosa almeno che non entrano gli altri in casa a meno che non trovi raga mi sia bugato di nuovo il gioco a me ah non per te ti baga sto cazzo il gioco oh boh ogni tanto come vado giù mi si porta in aria mo' sto nella merda raga ho mai bianco con te io ok adesso nella ma questo da me a romper i coglioni no mei corri dai un tizio di merda io dovevo trovarlo il tizio stronzo mi dai un po' un po' ho qualche arma grazie ma la sfiga io ce l'ho la sfiga nel bagno è meglio nel bagno davanti a te lì è raga costruita adesso soprattutto io dovevo costruire perché non è va bene ma raga ma i bianco che colpile a 50 non muore vai luca colpisci vai luca colpisci materiale no quasi dai si l'hai tirato vabbè dai proprio io non capisco colpile a 50 il bianco non muore siamo ancora pronti per un parco vabbè siamo pronti siamo pronti ma se capita una merda così non ce la facciamo a me ho trovato una revolver vabbè però la revolver è forte gli ho tolto 105 un tipo ho fatto una kill più un atterraggio con la revolver adesso se proviamo di nuovo a parco raga vogliamo subito qua c'era l'andello l'andello no no e vado al crottere fisico io sono sempre nelle casette ormai non andare in casa io non mi fiderei molto perché c'è sempre un fottio di gente quindi non so sempre gente la casa non so il perché perché la casa forse con più l'ultimo dipende ma nel crottere trovi il doppio cazzo e nessuno ci viene ok è una cosa di meravigliosa molto molto bene ho messo bene anche io ho messo molto bene io ho due pompe raga prendetemi i materiali subito fai chiamare da danni ok è mai il cuglione uccidono a volte anzi fanno male e mei adesso arrivo ma è questa dove è la safe come sempre sempre lì finisce si sta laggando un botto raga raga mi sta laggando un sacco ok ha smesso di laggare raga io ma che è rincoglionito quello lì scusate un attimo che ti è buttato raga io sto laggando un botto aspettate ok tutto minchione raga io non ho un fucile d'assalto il lutto di coltivo è proprio un genio quello che c'è perché a me ho fatto da danni che cazzo hanno lasciato non ho neanche un assalto adesso tutto io che vedo cosa volete volete come volete tolì me non cazzo il piccolo volete che lo preso io quello che c'è un assalto mi servirebbe ma non è bene l'assalto non l'ho trovato ma io zero c'è noi o mai uno? c'è noi o mai allora raga siamo in tre ce li ha Michael 1 chi vuole è pompa multiplo verde? io è bruda a metà velo di video dai sono stato per me io sì però quello che c'avevo non è uno ma verso borgo raga che c'è gente sicura dai facciamo qualche kill bello facciamo poi questi materiali ci facciamo da loro no allora no no ce l'ho io ma ce l'ho io a me serve ma è 300 di... no dai si me le lasciamo a me le bande che così almeno me le posso prendere ci ho mai di tutti ti ho mai di tutti ti ho mai di tutti ti distacco io ok aspetta me mi lasceresti una cosa c'è già uno c'è già uno non sembra luce qua ce la facciamo forse da giutarci qualcosa raga raga double pompi raga gente è ne ho 3,34 mi si è spoccato arrivi mi sta facendo saltare mi sta facendo saltare meia mi fa saltare qua da me l'ho visto io mi fai saltare anche a meia perché non lo vedo più se l'ho visto per le tue cazzate eccola eccola io lancio granate ma il singolo raga da solo era era un anno raga colpi per il coso per il coso per il coso aspetta per il lancio granate ne ho due tu da linee qualcosa lancio granate di colpi lancio granate dai da dove non mi vuole dare niente però perché dani è cattivo ma che cazzo mi prendo la droga mi vedi luca oh luca mi vedi ti vedi ti vedi no non c'è spoglio eh ma ah già lì si è che guardo non sai cosa ti succede qua sopra o c'è qualcuno o c'è stato qualcuno raga io appunto per la seconda c'è stato sicuro però facciamo la droga ragazzi io vi no no adesso no lo prendiamo dall'altro vediamo piccola cornizione qua sopra eccole eccole una minchia adesso guarda me sono due raga ora d'aiuto a terra una raga per cazzo siete uno l'ho ammazzato ok a posto perché mi hanno fatto male a me mi hanno fatto male l'ho preso giuro all'improvviso io ho preso tutte e due ma i convini qua da me allora che c'è una nostra scendini un po' su cosa michael scendini no no ha abbiato io me lo son visto di fronte l'ho detto non è mai questo quindi l'ho sparato c'era che io stavo costruendo le scale mi son visto questo tipo di fronte l'ho preso in testa madonna l'ho sentita per tutta la vita quel tipo è bellissimo costruire con il potere si è una figata ti fai scavinati 3,6 secondi alti g si è troppo bello col potere si l'hanno fatto bene ragazzi riuscite non li spoccate gli hanno già spoccati quei titi già hanno lasciati a 50 siamo tutti e quattro vivi possiamo fare qualcosa vai luca sentiamo i suoi materiali si si aspettate ragazzi con la lì che cazzo e ragazzi chi? a 60 una scala gigantesca si si attiva perché? tu dove sei? c'è gente ragazzi non spartino ancora ragazzi non spartino ancora andiamo passati diamo l'attenzione aspetti stanno tenendo su aspettate aspettate raga aspettate stanno scendendo di nuovo ora 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 nonième una caduta pausa eh ora paam l'eb게 io eccomando il tuo no raga aiuto venuto sparato paratelo ok ok raga aiutateci aiutateci si è suicidato sto stupido non riusciva a sparare cazzo giù non si muoveva troppo velocemente sicuri me il cazzo cosa stai facendo scelgine scelgine con i cittadini e mando di stare con i chieri e non ha luttati tutto capite di pompa poi datemi era capitato e bende però mi servono aspetta al più pompa mai ma è meglio di conto ma è corso un quattro 10 e io lancio granate noni come il campo di grosso calibro bel pump e chi è ecco visti l'ho visto l'ho fatto male sto coglione brutto gay di merda hanno fatto un male in che un secondo quattro in faccia no vero chi ne ha bende sono fuori io di legno io maio 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 il cazzo che la dani guarda questo guarda guarda ho perso e quello libro poi sky by eccola qua in mezzo raga sono qua in mezzo aiuto lanciate il lanciagranate il lanciagranate il lanciagranate il lanciagranate eliminato dalla è possibile non mi può beccare ecco e lui 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 ti mi ha ammazzato ciao ma d'osca sto qua eh non potevo fare cosa facevo sennò no 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 dovi fondere il mito che ammazzato e mi avrebbe ammazzato lo stesso perchè dai dai io devo andare ciao mei eh il compare adesso c'è posto per te se vuoi adesso puoi venire eh che abbiamo gruppo raga mi dito io eh perchè mei è il capo del gruppo abbandonato vabbè ve lo da qualcuno di voi leader vabbè non è stato una bruttissima partita ok ok si si do è domani dai michael facciamoci una copia poi vado io piacciono dai a facciamone una coppia poi andiamo e stacchiamo la live mi senti dai vado anch'io allora dai ciao raga ci sentiamo domani con un'altra live ci bella